La cosa che non mi è piaciuta di Conte è stato il cambio al settantesimo Perché se tu mi metti Foloruncio al posto di Kvara Mi stai facendo un cambio difensivo vuol dire che tu ti vuoi prendere il pareggio Non lo so, mi ha dato la sensazione che è mancato un po' di coraggio da parte di Conte Buon pomeriggio ragazzi, ben ritrovati sul canale Oppure benvenuti se siete nuovi E voi nuovi mi raccomando iscrivetevi al canale Perché è totalmente gratis e attivate poi la campanella Per rimanere sempre aggiornati Allora, buona domenica a tutti ragazzi Oggi siamo qui riuniti per fare le pagelle di Juventus-Napoli 0-0 Vi avviso già che saranno pagelle abbastanza rapide Perché di roba da dire questa partita ce n'è veramente poca Perché come ho detto ieri nel post partita che trovate nelle schede È stato un pareggio abbastanza noioso e povero di emozioni Quindi andremo abbastanza rapidi oggi Scrivetemi nei commenti ragazzi le vostre pagelle Fatele senza troppi problemi perché tanto io poi me le guardo E mi fa piacere sentire anche il vostro parere Detto questo, cominciamo subito e partiamo con Meret che si prende il 6, un 6 che in realtà è un senza voto Perché ragazzi la Juventus non ha creato pericoli Non ha creato pericoli, Meret non si è visto quasi mai Io non mi sono neanche accorto di avere un portiere in campo Poi esce al trentesimo per un infortunio Mi pare di aver letto affaticamento muscolare quindi non dovrebbe essere niente di grave Esagerando secondo me salterà solo la partita di Coppa Italia Quindi gioca mezz'ora, in quella mezz'ora non si è visto niente Quindi si prende il 6 giusto perché ha giocato mezz'ora ma sarebbe un senza voto tranquillamente Buongiorno, si prende il 7 Allora i due centrali ieri molto molto bene Hanno assorbito molto bene Quelle volte dove la Juve ha provato a fare qualcosa di pericoloso Buongiorno ragazzi, ormai abbiamo avuto Stiamo avendo la certezza giornata dopo giornata Di ciò che lui è Cioè un grandissimo difensore A mio avviso in questo momento è anche uno dei migliori in Serie A Abbiamo trovato con un anno di ritardo Il giusto erede di Kim E anche ieri pomeriggio comunque Ha fatto una grande partita difensiva E quindi gli do il 7 Do il 7 anche a Rachmani Che per me ieri è stato più efficace di Buongiorno Rachmani ieri si è messo nelle tasche Vlaovic C'avete presente quel meme del difensore che svuota le tasche Trova le chiavi di casa, trova il portafoglio Rachmani svuotando le tasche si è ritrovato anche Vlaovic E ragazzi non è un caso che lui sia tornato a fare bene Proprio quando gli hai messo vicino un difensore forte Perché Rachmani Diciamo tutto sommato È un difensore normale Ok? Non stiamo parlando di un grandissimo calciatore Di un difensore che ruba l'occhio È un difensore funzionale Che diventa più efficace quando vicino gli metti Un difensore più forte di lui Che diciamo gli dà sicurezza Facciamoci caso Vicino a Koulibaly Rachmani ha dato il meglio di sé Vicino a Kim ha dato il meglio di sé Vicino a Buongiorno sta dando il meglio di sé Quella volta in cui è stato chiamato in causa Dove lui doveva essere il difensore leader Cioè l'anno scorso Rachmani si è visto Veramente il peggio Ecco quindi Io non sono sorpreso dal rendimento che sta avendo Rachmani Perché è quel classico difensore Che messo vicino a un altro più forte Automaticamente alza il suo livello Quindi Per me si prende il 7 Ieri sera Mi è piaciuto più di Buongiorno Ecco lo dico Di Lorenzo 6 Allora Faccio un discorso che Per me È lo stesso anche per Olivera Ieri secondo me Sono mancate un po' Le sovrapposizioni Dei Terzini Ora vi farò vedere In post editing Le hitmap Di Di Lorenzo e Olivera Come potete vedere Non c'è stato tantissimo Tantissima spinta offensiva Da parte dei Terzini Di Lorenzo Lo ha fatto sicuramente Più di Olivera Ma Poca roba Sono mancate Le sovrapposizioni Dei Terzini E infatti Politano e Cavara Ne hanno risentito Quando attaccavamo Cavara e Di Lorenzo Erano abbastanza isolati Sia per Di Lorenzo Che per Olivera Ho tolto un mezzo punto Perché la spinta offensiva Non c'è stata Poi bisogna capire Se quella spinta Offensiva è mancata Perché gliel'ha detto Conte O perché magari Non se la sentivano Ma io penso Che sia stata Un'indicazione di Conte Tolto questo Il lavoro difensivo Di Di Lorenzo Ieri è stato ottimo Nel primo tempo Però secondo me Ha lasciato un po' Troppo libero Di crossare il Diz Infatti il primo tempo La Juve Attaccava molto Dalla sinistra Con questi cross di Ildiz Che poi andavano Sul secondo palo Lì secondo me L'ha fatto crossare Con un po' troppa libertà Però nel complesso Il suo lavoro difensivo È stato decisamente ottimo E si è fatto valere Anche su due In una grande partita Però non ho avuto La percezione Che mi ha dato Di Lorenzo Lato difensivo Ecco quindi Olivera Non solo Non ha spinto Ma anche Secondo me Ha fatto una fase difensiva Abbastanza rivedibile Ecco quindi Gli do il 5 e mezzo Per questo motivo Lobotka 6 e mezzo Il solito Lobotka C'è poco da dire Una pulizia dei palloni Che ormai È diventata Un marchio di fabbrica Di Lobotka Sempre attento Sempre lavoro difensivo A sostegno dei difensori È il classico Lobotka Che siamo abituati a vedere Quindi Non mi soffermo Neanche troppo Su di lui ragazzi Perché Lobotka Ormai lo conosciamo Do Ad Anghissa Si sta rivedendo L'Anghissa Dello Scudetto E perché Si sta rivedendo L'Anghissa Dello Scudetto Per lo stesso motivo Di cui parlammo Contro il Cagliari Perché Il Napoli Difende Compatto Bene o male Siamo sui livelli Di Cagliari Ho voluto fare un confronto Per curiosità Per vedere Se erano stati più Compatti contro la Juve O contro il Cagliari La compattezza È stata migliore Contro il Cagliari Perché Il baricentro Contro il Cagliari Era lungo 22 metri Contro la Juve Invece 26 metri Quindi Leggermente Meno compatti Rispetto a Cagliari L'altezza Contro il Cagliari Era di quasi 49 metri Contro la Juve 51,5 Quindi il Napoli È stato più alto Rispetto A Il Cagliari La larghezza Siamo lì A differenza del Cagliari Leggermente un po' Più lunghi Ma Blocco alto Ok Quindi Ancora una volta Angissà Ha goduto Della compattezza Della squadra E di questo blocco Ecco in fase Non possesso E ragazzi Quando lo spazio È compatto Quando lo spazio È poco Quando non ci sono I tronconi Tra attacco Di difesa Angissà Angissà Ne giova E occhio Perché ragazzi Con Questo 4-3-3 Che poi In realtà Non è stato Proprio un 4-3-3 E con questo McTominay Messo dentro Diciamo L'11 titolare Angissà Angissà Agito da trequartista Perché se vedete Anche la hitmap Si vede chiaramente Che lui ha agito Sulla trequarti E molto spesso Si andava anche Ad alzare Sulla linea di Lukaku Andando quasi A formare Un 4-2-4 O meglio Un 4-4-2 Perché Cavallo e Politano Stavano un po' Più dietro Quindi diciamo Che di base Era un 4-2-3-1 E ragazzi Il 4-2-3-1 Con questi interpreti Si può fare Perché tu comunque C'hai una mediana Come Lopott Che Angissà Che difensivamente Sa fare il suo lavoro C'hai un trequartista Come McTominay Che ti fa la doppia fase Perché comunque McTominay Ieri Si è fatto sentire Anche in fase difensiva Ha vinto dei duelli E È tornato a coprire C'hai due esterni Come Cavallo E soprattutto Politano Che ti fanno Tanto lavoro difensivo Quindi il 4-2-3-1 Con questi calciatori Lo puoi fare tranquillamente Perché c'hai Centrocampo e trequarti Che ti fanno Lavoro difensivo McTominay Ieri Praticamente Ha fatto L'unica azione Pericolosa Che ha impensato Di Gregorio Quel tiro da fuori aria Ragazzi McTominay Il tiro da fuori aria Ce l'ha E Secondo me Andrebbe sfruttato Molto di più Di Gregorio Non l'ha saputo Trattenere E quindi Quella palla vagante Poteva diventare un pericolo Infatti Kukaku per poco Non andava a prendere E faceva anche gol Quindi Il tiro da fuori Ragazzi È fondamentale Perché È imprevedibile Può sempre Crearsi un pericolo Da quelle palle Quindi per me L'impatto di McTominay Ieri È stato ottimo E Porta A un cambio tattico Che può Diventare importante Da questo momento in poi Andiamo all'attacco Kvara 6 Allora Kvara non ha fatto Una partita Buona Non ha i suoi livelli Ecco però Nonostante ciò Lui comunque Il fritto Come dicono a Roma Ce lo mette sempre Perché comunque Si è fatto sentire In fase difensiva Davanti Sì Non ha inciso tantissimo Perché a livello di tiri E passaggi chiave Poco Però Secondo me C'ha l'attenuante Della mancata Sovrapposizione Di Di Olivera Quindi Ha dovuto fare da solo Su quel lato Quindi io il 6 Lo voglio dare Perché comunque Nonostante Il non aiuto Del terzino Qualcosa ha provato A fare Però Il voto più alto In attacco Per me Solo prende Politano 6 e mezzo Allora Politano Ragazzi Fa tanto lavoro Sporco Sì Poi Le decisioni Le ha sbagliate Ma io penso Che le decisioni Sbagliate Siano una conseguenza Cioè Quando un attaccante Fa tanto sacrificio Dietro Fa tanto lavoro Difensivo È normale Che poi Quando attacca Perde un po' Di lucidità Sottoporta Io sono convinto Di una cosa Se Politano Non facesse Tutto questo Lavoro difensivo Sarebbe molto Più lucido Davanti Io di questo Ne sono convinto Per me È una conseguenza Del fatto Che si sacrifica Troppo Per i compagni In difesa Poi comunque Ieri ragazzi È il giocatore Comunque Da cui sono partite Le azioni offensive Perché voi Se vi vedete Anche il grafico Dei tocchi palla Il Napoli Ha attaccato Sul suo lato Quindi Comunque Lui è stato Importante Anche lui Come Kvara Non ha goduto Della sovrapposizione Di Di Lorenzo Però in parte Minore rispetto A Kvara Perché comunque Di Lorenzo Qualche sovrapposizione L'ha fatta Però non tantissime Quindi Io il 6 e mezzo Io lo do Per il tanto lavoro Che ha fatto In fase difensiva Per la squadra Ed è per questo Ragazzi Che Politano gioca È uno dei pochi esterni Che ti fa Tutto questo lavoro Difensivo Ed è per questo Che parte sempre Avanti rispetto A Neres Perché Ti dà l'equilibrio E se tu vuoi fare Un modulo Offensivo Come il 4-2-3-1 Perché io penso Che adesso Sarà quella La direzione Perché se tu vuoi giocare Con McTominay Devi secondo me Portare quel tipo Di schieramento Politano diventa Ancora più prezioso Perché ti fa Fase difensiva E poi ragazzi Arriviamo al peggiore In campo La caca Ecco Il meme Lo sapete Il meme Sul Lukaku Perché ieri Si è visto la caca Gli do il 5 Peggiore in campo Bremer ha stravinto Il duello ieri Pochi appoggi Duelli fisici Con Bremer La maggior parte persi Poi lui molto spesso Si allargava Sulla destra Appunto Per permettere A McTominay Di inserirsi Quindi il 4-2-4 Ok Lukaku Centrodestra McTominay Centrosinistra E Dico una cosa Occhio Perché secondo me Il cambio modulo Potrebbe incidere In negativo Su Lukaku Perché Perché fino a ora Lukaku perché Ha reso bene Perché comunque C'era un assetto Attorno a lui Che lo valorizzava Noi come abbiamo detto Anche nel video Dello scopriamo Lukaku Lui ha sempre dato Il meglio di sé Quando giocava In un attacco a due Con vicino Una seconda punta Che gli ruotava attorno Ok Lautaro Lukaku No Fino alla partita Contro il Cagliari C'aveva comunque attorno Se un attaccante Come appunto Kvara Che gli ruotava vicino Ieri invece Era isolato Perché appunto Nel 4-3-3 C'ha gli esterni E la punta centrale Quindi lui Stava da solo Lì davanti E quindi secondo me Anche il cambio modulo Potrebbe incidere Sul rendimento di Lukaku Il cambio modulo A volte Ti risolve Dei problemi Ma ti potrebbe Crearne altri E quindi Bisogna vedere Però secondo me Ha inciso Anche Il fatto che lui Comunque ha giocato Da solo Ha fatto reparto Da solo Passiamo i subentrati Allora Caprile 6 Stesso discorso Di Meret Gioca un'ora Ma in quell'ora La Juve Non crea niente Ragazzi I portieri Oggi senza voto Faccio lo stesso ragionamento Che ho fatto con il Cagliari Però al contrario Cioè cosa dissi contro il Cagliari Meret il migliore in campo Perché ha fatto Tantissime parate Però allo stesso tempo Se il Meret Il migliore in campo Vuol dire che qualcosa Non ha funzionato In fase difensiva Perché hai concesso troppo Qua è il contrario Ma il portiere Non ha fatto niente Perché non ha fatto niente Perché c'è stata Una fase difensiva Perfetta La cosa importante Di questa partita È stata questa Cioè Tu rispetto a Cagliari Hai fatto Un grande miglioramento In fase difensiva Perché Le occasioni Per la Juve Il titolo di Coppmaners Poi Basta Ecco quindi Si contano sulle dita Di una mano E manco arriviamo A riempire tutte le dita Ecco quindi Da Cagliari a Juve La fase difensiva È migliorata parecchio Poi Neret 6 Ha giocato Comunque Quella ventina di minuti Però Ragazzi Come ho detto anche nel video Ieri Più si avvicinava Al novantesimo E più si capiva Che sarebbe stato Uno 0-0 Lo scialbo Partita da 6 Perché comunque Una ventina di minuti L'ha giocati Qualcosina si è visto Però Era uno 0-0 Scritto Simeone 5 e mezzo 5 e mezzo Perché ragazzi A me quell'azione Dove lui Vede di Gregorio Fuori dai pali E fa questo tiro Che poi manco Becca alla porta Mi ha fatto Leggermente Incacchiare Lì C'era Neres Che stava partendo Sulla fascia Io gli avevo dato Il pallone In quell'occasione Poi magari Non succedeva niente Però è trittato Dagli quella palla E vediamo che succede Quindi per questo Gli do il 5 e mezzo Poi Foloruncio 5 e mezzo Perché Per poco Creato Un'occasione Da gola La Juve Lui diciamo Che ha giocato Esterno Di centrocampo Nel 4-4-2 Ha preso Il posto Di Kvara Ma ha giocato Praticamente Un po' più abbassato Ok Sulla linea Di centrocampisti Non ha creato Questo grande Impatto positivo Per il Napoli Anzi L'ha creato Quasi negativo Quindi Non è entrato Benissimo Però mi ha sorpreso Il fatto che sia entrato Quindi Evidentemente Conte Lo Lo prende in considerazione Ecco Nelle rotazioni Poi ragazzi Gilmour senza voto Gioca letteralmente 3 minuti Però voglio dire una cosa Quanto è importante Vedere Lobotka Che esce E Gilmour che entra Questa cosa Io la voglio sottolineare Perché È importante Secondo me Il Napoli Dopo 4 anni Ha finalmente Trovato un cambio Lobotka Perché io Vado a memoria Magari mi sbaglio E se mi sbaglio Ditemelo nei commenti Ma io Non ricordo In 4 anni Due sostituzioni consecutive Per Lobotka Quindi per me Il fatto che Gilmour entri Puoi entrare Alla fine Entra 3 minuti Entra 10 Non mi interessa Però il fatto che Lui entri Certifica che tu Finalmente Hai un'alternativa Lobotka E questa cosa Ragazzi È importantissima E lo dico Se vai in Champions L'anno prossimo Gilmour Diventerà fondamentale Perché potrà dare Un po' di respiro Allo Lobotka E chiudiamo Con Conte Che gli voglio dare Il 6 e mezzo Perché Allora La partita L'ha preparata Benissimo Perché comunque Se tu non fai Ti dare mai in porta La Juve Hai fatto un lavorone Però La cosa che non mi è piaciuta Di Conte È stato il cambio A settantesimo Perché tu al settantesimo Mi togli tutti e tre Gli attaccanti Politano lo posso capire Perché comunque Fa tutto quel lavoro Quindi È normale che si stanchi anche Lukaku lo posso capire Perché ha fatto una partita Abbastanza negativa Però il cambio di Kvara A me non è piaciuto Perché lì Secondo me Conte Ha dato proprio la sensazione Di Volersi prendere il pareggio Se tu mi metti Foloruncio Al posto di Kvara Mi stai facendo un cambio Difensivo Vuol dire che tu ti vuoi Prendere il pareggio Non lo so Mi ha dato la sensazione Che è mancato un po' Di coraggio Da parte di Conte Perché comunque La Juve Lo ripeto Non è stata così pericolosa Non mi ha dato mai La sensazione Di potertela Far perdere Quella partita Io avrei Un pochettino osato Questo cambio Kvara Foloruncio Mi ha dato proprio La percezione Del Prendiamoci questo pareggio E non rischiamo Ecco L'ho letta così Sta cosa Poi Durante Nei minuti finali Si vedeva chiaramente Conte che diceva Calma Difendiamo Prendiamoci questo punto Ecco Questo non mi è piaciuto Di Conte Che si è accontentato Del pareggio E quindi ragazzi Queste sono state Le mie pagelle Di Juventus Napoli Ditemi le vostre Nei commenti Mi raccomando Lasciate un bel like Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi Che è totalmente gratis E poi attivate la campanella Per rimanere sempre aggiornati Sull'uscita dei miei nuovi video Detto questo ragazzi Noi questa settimana Abbiamo la partita Diciamo Tra virgolette Infrasettimanale Perché giovedì c'è La Coppa Italia Contro il Palermo Un Palermo Che ieri Ha pareggiato in casa 0-0 Contro il Cesena Quindi un Palermo Che comunque Non sta vivendo Un periodo Positivissimo Quindi detto questo Ragazzi Forza Napoli Sempre Buona domenica A tutti Buon proseguimento Di domenica E noi ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao Grazie a tutti.